Il programma dei voli primavera-estate dall'aeroporto d'Abruzzo, illustrato stamane in conferenza stampa dal presidente della saga Enrico Paulini e dal direttore Luca Cerlini, si comincia dal 1 aprile con il volo per Praga, lunedì e venerdì fino al 25 ottobre, così come Varsavia, lunedì e giovedì. Dal 3 aprile c'è poi il volo per Düsseldorf fino al 26 ottobre, mercoledì e sabato. Dal 4 aprile al 24 ottobre, il giovedì e la domenica, il volo per Girona, dunque Barcellona. Dal 5 aprile al 25 ottobre il volo per Cracovia, lunedì e venerdì, e dal 6 aprile il volo per Palermo, il martedì e il sabato, nei mesi di aprile, maggio e ottobre, e lunedì e venerdì da giugno a settembre. Il 31 maggio sarà poi riproposto il richiestissimo volo per Cagliari fino al 30 settembre, lunedì e venerdì. A questi vanno aggiunti i voli in convenzione con costa da luglio ad agosto per le capitali del Baltico, da dove ci si può imbarcare per le crociere. A margine della presentazione dei voli, Paolini ne ha anche approfittato per annunciare un primo importante incontro con il sottosegretario dei trasporti, l'onorevole Armando Siri, per avanzare precise proposte per lo sviluppo e la valorizzazione degli aeroporti nei luoghi colpiti dal sisma. Noi chiediamo il rimborso dell'endling per 5 anni nei 3 aeroporti delle regioni terremotate, con i fondi naturalmente per il terremoto, per la ripresa economica nelle zone terremotate. La seconda è che noi chiediamo di darci una continuità territoriale per 5 anni ai 3 aeroporti delle regioni terremotate per poter avere il collegamento con Roma e Milano e sostanzialmente senza cambiare aereo con gli Stati Uniti, i voli intercontinentali. Perché se vogliamo usare una piccolissima parte dei fondi del terremoto per la ripresa economica di queste 3 regioni tramite gli aeroporti e il turismo, dobbiamo incentivare l'incoming, cioè l'arrivo di turisti internazionali e nazionali in questi 3 aeroporti che portino economia e occupazione. Questi due sistemi, il rimborso dell'endling e la continuità territoriale, servono a questo, a far arrivare più turisti, più denari e più riprese economiche. Poi c'è una terza proposta piccolina, cioè un piano marketing per i 3 aeroporti delle 3 regioni terremotate, che naturalmente pubblicizzi queste decisioni. Il colmo sarebbe, se noi ottenessimo questi vantaggi, con qualche decina di milioni di euro, sostanzialmente non di più, e però poi non si sapesse.